seppie con cosa con l'anduia vi faccio vedere una preparazione anche divertente tra l'altro in una ricetta possiamo realizzare due ricette perché avranno fare una sorta di zimino visitato quindi base lo zimino è sempre la stessa ossia biete o spinaci la seppia in questo caso vado usare soltanto i ciuffi poi cipolla del sedano e anziché usare del prezzemolo metto del coriandolo quindi vado a prepararmi questa base con dell'olio mi taglio le verdure qui olio caldo aggiungo cipolla sedano alzo bene nel frattempo che le verdure iniziano a cuocere mi preparo i pomodori gustiamo per bene mi preparo i ciuffi ho diviso la seppia con i ciuffi la parte del corpo questa l'ho tagliata con una fettatrice se non avete una fettatrice un buon coltello ben affilato lo tagliate in maniera molto sottile andiamo a ricreare un po una tagliatella aggiungiamo i ciuffi delle seppie preparo le viete bello tostato aggiungo le viete pomodori sale e pepe in questo modo magari tagliando i ciuffi di seppia in maniera più piccola il sedano più piccolo lo possiamo far andare una ventina di minuti e abbiamo un piatto io invece ho bisogno di estrarre i succhi quindi vado a estrarre sia i succhi sia posso comunque mantenere questa preparazione per altre lavorazioni cosa faccio prendo dell'acqua e faccio cuocere in questo modo a fiamma media per un quarto d'ora 20 minuti quindi il tutto cotto circa un quarto d'ora 20 minuti prendo un colino e una bull vado a colare il tutto mi serve soltanto il liquido in questo momento come dicevo questa parte la riutilizziamo con un altro piatto ora una bull più piccola anduja la vado a stemperare con il nostro liquido caldo delle seppie andiamo quasi a ricreare una sorta di ragù ok questa la teniamo da parte per andare a smorzare un po la parte piccante vado a lavorare questa mousse di capra aggiungo solo un po d'acqua e dell'olio ok trasferisco il tutto di una bull della spumosa ora dicevo della coriandolo non mi piace metterlo troppo in cottura a modo da altrimenti rimane troppo invasivo e quindi lo metto soltanto poco prima del servizio vado a fare molto fine e lo aggiungo alla nostra anduja ora l'ultima cosa da fare le seppie quindi prendo prendo una placchetta prima di condirle con un cannello vado a dare giusto una fiammata ora le rimetto nella bull e le vado a condire con cosa in maniera molto semplice sale e olio all'alloro ok lasciamo una decina di minuti a marinare dopodiché ho tutto pronto e procedo con l'impiattamento vado ad impiattare come metto sulla base un cucchiaio della mousse di capra prendo l'anduja con il liquido che abbiamo ottenuto dallo zimino prendo la seppia come degli spaghetti e delle tagliatelle vado a bagnare leggermente con il liquido lo zimino ancora un filo d'olio per concludere un altro grande prodotto della calabria risparliamo di anduja polvere di pompelmo praticamente quando vi fate le spremute anziché buttare la parte della buccia fate bruciare in forno la frullate e ottenete questa una parte molto aromatica ed ecco qui il piatto è pronto un'idea carina provateci come sempre alla prossima buon appetito